C'è un primo iscritto nel registro degli indagati aperto dalla procura di Perugia dopo la morte di Enzo Boriosi di 65 anni avvenuta nell'azienda di San Giustino. Il PM Emanuela Comodi ha indagato con l'ipotesi di omicidio colposo il titolare dell'azienda, un aretino di 52 anni. Intanto, secondo quanto emerge dai primi dati dell'autopsia, la morte di Enzo Boriosi è riconducibile a lesioni polidistrettuali e trauma toracico. L'esame è stato effettuato dalla dottoressa Laura Panata dell'Istituto di Medicina Legale. Il decesso sarebbe stato provocato da lesioni gravissime dovute allo schiacciamento. In particolare le costole proprio per lo schiacciamento avrebbero trafitto il cuore. L'uomo lunedì sera era rimasto schiacciato da pesanti lastre di vetro nell'impresso in cui lavorava. L'allarme era stato lanciato dai colleghi e sul posto erano arrivati i medici delle 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le indagini sono affidate ai tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Aslo Umbra 1, che stanno cercando di ricostruire quanto è accaduto in quell'azienda. La salma di Boriosi è stata portata nella chiesa di San Lorenzo, dove è stata allestita la camera ardente. I funerali, invece, saranno celebrati sabato mattina alle 10.30 in Duomo.